oggi preparerò la mucchina gel fatta in casa io l'ho sempre usata anche in tempi non sospetti perché la trovo utile da portare in borsa la boccettina piccola per pulirsi le mani quando si è in giro e non c'è la possibilità di lavare le mani normalmente con acqua e sapone siccome ancora non si trova ho trovato la ricetta della OMS per farla perché alcune sono troppo diluite e quindi non efficaci praticamente porta 833 ml di alcol 42 di acqua ossigenata e 15 ml di glicerina io farò metà dose perché quella è una dose per un litro ma non me ne serve così tanto perché mi serve solo quando esco quindi comincio con 21 ml di acqua ossigenata a cui aggiungo 7,5 di glicerina e poi 416 di alcol a 90 gradi si mescola tutto ed è pronto a voi che ma a vor